Abbiamo intervistato il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, che ha intervenuto riguardo il Natale delle Meraviglie e le critiche che sono arrivate nei confronti dell'amministrazione. Il programma natalizio di Agropoli è stato più volte contestato ed il sindaco ha voluto rispondere parlando di fatti, mettendo in evidenza gli ottimi numeri che ha fatto registrare e descrivendo il Natale delle Meraviglie come un evento che sta ancora crescendo. Il sindaco Coppola ha accolto le critiche mostrando la volontà di rendere questo evento sempre migliore e inoltre ha invitato i cittadini e chi ha criticato a portare pazienza perché il Natale delle Meraviglie è un progetto a lungo termine. Le contestazioni e le critiche ci sono sempre. Quello che conta sono i risultati che abbiamo ottenuto e mi sembra di aver potuto spiegare più volte che i risultati sono positivi. Ho raccontato anche che il Natale delle Meraviglie è un evento che sta crescendo come un bambino che deve fare forte le gambe, le braccia per poter poi diventare e crescere in una maniera migliore. Noi lo stiamo accompagnando in questo percorso come tanti altri eventi in città. Bisogna questi eventi che piano piano crescono nel tempo. Le critiche quindi le raccogliamo in senso positivo perché vogliamo migliorarci per l'anno prossimo e diciamo a chi ci ha criticato di avere anche un po' di pazienza perché vedrete già l'anno prossimo la differenza rispetto a quest'anno. Noi lavoriamo non nell'immediato ma lavoriamo con programmi di medio e di lungo periodo. Non siamo abituati a fare le cose nel brevissimo periodo per ottenere un risultato nel breve anche che può avere un ritorno politico positivo. Noi investiamo nel lungo periodo e quando si investe nel lungo periodo si fanno anche degli errori ma noi li facciamo in buona fede perché sappiamo che alla fine il percorso e il risultato finale sarà adeguato a quelle che sono le aspettative di tutti i cittadini.